Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Elena Sofia Ricci è pronta a dire addio ai suoi numerosi fan Per molto tempo in tanti avevano sperato fossero solo voci e invece ora è arrivata la conferma La sua decisione non fa di certo piacere al pubblico, eppure sembra ormai irreversibile L'attrice della fiction di Rai 1, amatissima dal pubblico del piccolo schermo e seguita da decenni dai telespettatori italiani, sembra aver fatto una scelta precisa, che non lascia spazio la possibilità di tornare indietro Scopriamo tutta la verità sulla decisione e la carriera cinematografica e televisiva di Elena Sofia Ricci Elena Sofia Ricci dice addio ai fan.E da lontano 15 dicembre 2011 che su Rai 1 vai in onda la serie tv che Dio ci aiuti La fiction mette in scena gli avvenimenti vissuti dai protagonisti in un convento che suora Angela ha deciso di far diventare un convitto, per poter accogliere ed educare i ragazzi in difficoltà La fiction negli anni ha dato visibilità a molti attori e attrici italiane che sono diventati volti noti per il pubblico del piccolo schermo Il personaggio che senz'altro i telespettatori amano di più è Elena Sofia Ricci, che veste i panni della protagonista suora Angela, una ex detenuta generosa e simpatica Dopo oltre 10 anni di successo che Dio ci aiuti è giunto alla sua settima edizione, e adesso potrebbe esserci una novità che ai fan non farà piacere La protagonista potrebbe cominciare, come si era vociferato, la nuova stagione ma senza portarla a termine Scopriamo se è davvero così.Ecco la conferma.Già diverse indiscrezioni diffuse nei mesi scorsi da parte di TVblog avevano fatto trapelare la notizia di un probabile addio da parte della Ricci Lo stesso Luca Bernabéi, amministratore delegato della produzione dall'amatissima serie aveva rivelato, in un'intervista rilasciata a TV sorrisi e canzoni, Elena inizierà la settima stagione, vediamo se la continuerà Adesso la decisione però sembra definitiva, l'attrice non sarà più nel cast La novità è stata annunciata ufficialmente da parte della direttrice di Rai Fiction, la Ammirati, la quale ha rivelato alla redazione di TV che che Dio ci aiuti e un passo dal cielo verranno profondamente rinnovati e avremo nuovi protagonisti, che sostituiranno Elena Sofia Ricci L'attrice intanto in questo periodo sta lavorando all'adattamento di Fiori sopra l'Inferno, il best seller scritto da Ilaria Tutti, in cui interpreterà Teresa Battaglia Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video